Salve raga, parliamo di politica, parliamo di politica, quello che è successo in Sicilia, insomma le elezioni dove il 5 Stelle ha provato a vincere, ma io ero quasi certo che il 5 Stelle non ce la facesse, per un motivo, se volete scoprirlo passate sul canale di magic, area e così ascoltate quello che ho da dire e non solo, siccome le elezioni si avvicinano scoprirete perché il 5 Stelle perderà ancora, così ve lo dico, poi se ascolteranno il sottoscritto è facile che magari ce la fanno a vincere, se ascoltano il sottoscritto, ma se non ascoltano il sottoscritto non ce la possono fare, passate là e scoprite per quale motivo perdono e come possono vincere, ok? Ciao raga, iscriviti e ne sentirai delle belle, ciao!